Grave dolore per le stragi in Ucraina e Gaza. Dopo gli attacchi contro un ospedale a Kiev e una scuola nella striscia, il Papa esprime profondo turbamento per le vittime innocenti. Urgenti percorsi concreti per mettere termine i conflitti in corso. Italia maglia nera per i salari tra le economie avanzate. Sono più bassi solo in Repubblica Ceca e Svezia. Il governatore di Banca Italia, incertezza sul futuro. Il ministro Giorgetti rassicura, non serve una manovra lacrime e sangue. Biden non ha il Parkinson, smentita della Casa Bianca dopo le rivelazioni del New York Times. Un neurologo ha visitato il Presidente otto volte negli ultimi quattro mesi. Finti poliziotti, addetti del gas e medici della ASL. Un ampio repertorio di raggiri per truffare gli anziani rimasti soli in casa d'estate. Sgominata una banda che operava nel centro-sud. La fede più forte della paura e delle bombe. Da Aleppo in Siria è il racconto di un'ordinazione sacerdotale di due fratelli gemelli fiorita tra le macerie della guerra. Buonasera e benvenuti al TG2000. Non si attenua lo sdegno e la condanna della comunità internazionale dopo l'attacco missilistico che ha preso di mira anche un ospedale pediatrico di Kiev. L'ONU non ha dubbi, nonostante le smentite di Mosca, sulle responsabilità di un atto così atroce. Vito De Torre. I missili che hanno colpito l'ospedale pediatrico di Kiev sono russi. Ci sono le prove. A spiegarlo è Daniel Bell, capo della missione di monitoraggio delle Nazioni Unite e dei diritti umani in Ucraina. L'analisi delle riprese video e una valutazione effettuata sul luogo dell'incidente, ha spiegato Daniel Bell, indicano con un'alta probabilità che l'ospedale pediatrico abbia subito un colpo diretto e non sia stato colpito da frammenti di un missile intercettato dalla contraerea ucraina. Ed ecco il video del missile pochi istanti prima di colpire l'ospedale Okhmadit. Il missile è perfettamente integro fino al momento dell'esplosione. La procura militare ucraina ha analizzato i resti dell'ordigno e ha dichiarato che si tratta del missile KH-101 in dotazione alle forze armate russe. La portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca però nega qualsiasi responsabilità sull'attacco che ha colpito l'ospedale pediatrico di Kiev. Le squadre di soccorso continuano a scavare tra le macerie, ma le speranze di trovare qualcuno ancora in vita sono pochissime. Non è stato ancora definito con esattezza il numero delle vittime. Si parla di oltre 40 morti e più di 100 feriti. A Mosca, Vladimir Putin oggi ha incontrato il primo ministro indiano Narendra Modi. L'India, ha spiegato Modi, è favorevole a risolvere il conflitto in Ucraina in modo pacifico ed è disponibile ad un ruolo da mediatore, offerta che Putin non ha commentato in alcun modo. E anche di questo si parla al vertice dell'Alleanza Atlantica a Washington. Dalla Nato mi aspetto unità e sostegno all'Ucraina, ha detto Giorgia Meloni arrivando negli Stati Uniti. Augusto Cantelmi. Il percorso di adessione dell'Ucraina nella Nato è irreversibile secondo fondi di Kiev nella dichiarazione finale del vertice per le celebrazioni dei 75 anni dell'Alleanza Atlantica. Dovrebbe essere messo nero su bianco l'avvio del percorso per far entrare Kiev nel trattato. Al momento nessuna conferma, ma se dovesse arrivare si tratterebbe di un passo storico che di certo potrebbe cambiare anche il corso della guerra. La stessa Russia ha fatto sapere di seguire con attenzione quello che accade a Washington e il tutto dopo il brutale attacco a Kiev. Per il presidente americano Biden verranno annunciate nuove misure per rafforzare la difesa aerea dell'Ucraina. E dalla capitale statunitense arriva anche la condanna da parte della premier Meloni per la quale quando si attacca la popolazione civile e in particolare i bambini si manderebbero segnali opposti a quelli di volontà di pace che, aggiunge il presidente del Consiglio, la propaganda di Mosca vorrebbe far passare. La guerra in Ucraina tuttavia torna a dividere il fronte europeo a causa delle iniziative del primo ministro ungherese Orban che ha assunto la guida del semestre dell'Unione. Le missioni intraprese a Kiev e Mosca senza essere state concordate con i vertici UE mettono in allarme gli altri paesi europei che accusano Orban di slealtà per essere andato direttamente contro le conclusioni del Consiglio europeo. A Gaza ha bombardata un'altra scuola dell'ONU. Secondo Israele era usata dai terroristi. Proseguono le trattative per una tregua. Ci aggiorna Barbara Masulli. Ci sono più di 20 vittime. Abbiamo estratto alcuni corpi, ma altri sono ancora sotto le macerie. Abbiamo bisogno di aiuto, racconta questo palestinese di nome Yasser. Le macerie che vedete sono quelle di una casa di Nuserat nella striscia di Gaza distrutta da un bombardamento israeliano. Un altro raid, sempre a Nuserat, ha colpito invece una scuola gestita dall'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati. Sono state usate munizioni di precisione per minimizzare il più possibile i danni per i civili. Ha fatto sapere Israele, secondo cui l'edificio veniva usato dai terroristi come scudo per lanciare attacchi. Qui siamo a Deir al-Bala. I funerali sono all'ordine del giorno. Fadi è un medico ed è anche il padre di un bambino morto che porta ancora in braccio. Questo è l'obiettivo dei nostri nemici. Prendono di mire i più piccoli, dice. Che Dio abbia pietà di te, figlio mio. Il bilancio delle vittime palestinesi cresce di ora in ora. Secondo il Ministero della Salute di Gaza, dal 7 ottobre sono morte più di 38.200 persone. Oltre a morire sotto le bombe, muoiono anche distenti. Dieci esperti delle Nazioni Unite hanno accusato Israele di condurre una campagna mirata alla fame e di attuare una forma di violenza genocida che ha provocato la carestia in tutta Gaza. Domani sono attesi nuovi negoziati sul cessato il fuoco. Si svolgeranno a Doha con una delegazione egiziana. Poi i colloqui si sposteranno giovedì al Cairo. L'Egitto infatti continua a lavorare come mediatore. Il presidente al Sisi ha incontrato il capo della CIA, Burns, per discutere di un accordo che preveda il rilascio degli ostaggi di Hamas. Il gruppo terroristico intanto avvisa no a un accordo senza un cessato il fuoco completo e permanente nella striscia. Il Papa ha preso con grave dolore le notizie circa gli attacchi contro due centri medici a Kiev, tra cui il più grande ospedale pediatrico ucraino, nonché contro una scuola a Gaza. Il Papa manifesta il suo profondo turbamento per la crescersi della violenza, mentre esprime vicinanza alle vittime e ai feriti innocenti. Auspica e prega che si possano presto identificare percorsi concreti che mettano termine ai conflitti in corso. Lo fa sapere il Vaticano. L'Italia è il paese con la più bassa crescita dei salari reali tra le grandi economie. E quanto emerge dal rapporto dell'Ocse, altre nubi sulla nostra economia arrivano dall'Unione Europea e dalle parole del governatore di Banca Italia, Panetta, come ci spiega nel suo servizio Leonardo Possati. Non crescono i salari reali. L'Italia, il paese che ha registrato il maggior calo tra le principali economie dell'Ocse nel primo trimestre del 2024, erano ancora inferiori del 6,9% rispetto a prima della pandemia. La Germania perde il 2%, mentre la Francia registra un più 0,1%. Attenzione per salario reale, bene ricordare che si intende la quantità di beni e servizi acquistabili con la retribuzione mensile. Per vederli aumentare, dicono gli esperti, bisognerà attendere ancora un paio di anni. Si prevede infatti che le retribuzioni per dipendente aumenteranno del 2,7% nel 2024 e del 2,5% nel 2025, numeri questi che ci collocano nella parte bassa della classifica tra gli altri paesi dell'Ocse. Bene invece i dati sull'occupazione aumentata nell'ultimo anno con un incremento del 2% a maggio 2024, ma tuttavia segnalato come il tasso di occupazione italiano rimanga al di sotto della media Ocse. Nel complesso l'economia italiana cresce, seppur a ritmi moderati, come certifica davanti all'Assemblea dell'ABI e all'Auditorium della Tecnica di Roma, il governatore di Banca Italia Fabio Panetta. A tenere su buoni giri il motore del paese, l'irrobustimento delle imprese, la solida posizione finanziaria delle famiglie e la forza delle banche, tutti aspetti che ci consentono di guardare avanti con fiducia, ma non devono indurre un eccessivo ottimismo, sottolinea Panetta. Lo stato di salute della nostra economia viene confermato dal ministro Giancarlo Giorgetti, che ricorda all'Assemblea dell'ABI come il pareggio di bilancio sia un obbligo morale, ma per raggiungerlo la strada è quella buona. La nostra elezione è portare il bilancio in pareggio all'emetto del servizio del debito progresso. È un obiettivo raggiungibile, che dobbiamo perseguire con determinazione e che a rispetto di quanto si deve più frequente non richiede una manovra latine e sangue. Da Bruxelles intanto confermano le procedure per deficit eccessivo nei confronti dell'Italia, della Francia, del Belgio, dell'Ungheria, di Malta, Polonia e Slovacchia con l'intento di porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo. A maggio 624.000 famiglie con assegno di inclusione, un milione e mezzo di persone coinvolte. Sono i dati pubblicati dall'Inps. Ce ne parla Cesare Cavoni. Al 30 giugno 2024 l'Inps ha accolto quasi 700.000 domande di accesso all'assegno di inclusione. Ad ogni domanda accolta corrisponde un nucleo familiare, un bacino di almeno 1.700.000 cittadini. Il secondo luogo, sul fronte dell'altra riforma di sostegno a reddito introdotta dal governo Meloni per favorire l'accesso al lavoro, il supporto formazione lavoro ha coinvolto sempre al 30 giugno 2024 96.000 persone che si sono viste accogliere la domanda e hanno incassato l'aiuto. Campania e Sicilia hanno il maggior numero di beneficiari. Questo vuol dire che siamo praticamente in linee vicini a quelli che erano i target annuali previsti per la misura, misura che, come si sa, è aperta a tutte quelle condizioni e quei nuclei familiari che si trovano in una condizione di fragilità. La fotografia scattata dall'Inps restituisce la composizione dei 625.000 nuclei presi in considerazione nello studio. In 260.000 sono presenti minori, in 239.000 sono presenti disabili, in 297.000 sono presenti persone di almeno 60 anni di età, in 6.000 ci sono persone in condizioni di svantaggio. Critiche arrivano dalla CGL, la quale afferma che i dati dell'Inps certificano chiaramente che 600.000 famiglie per un milione di persone in condizioni di disagio e povertà che un anno fa beneficiavano del reddito di cittadinanza oggi sono escluse dall'accesso all'assegno di inclusione e lasciate sole dal governo Meloni. Vasta operazione antimafia su tutto il territorio nazionale, 18 arresti e 131 milioni sequestrati, in particolare da Luigi Ferraiolo. Disarticolata la centrale di riciclaggio delle mafie nella città Eterna, era l'araba finisce, sempre inseguita ma individuata secondo la procura di Roma. A finire nella rete della DDA Capitolina, dopo sei anni di indagini, l'inchiesta è cominciata nel 2018, i figli del cassiere della banda della Magliana Enrico Nicoletti e del boss romano della Camorra Michele Seneso Paz, Antonio Nicoletti e Vincenzo Fenese. Come a dire che buonsangue non mente. Coinvolti nelle indagini anche l'ex manager musicale del cantante Achille Lauro, Angelo Calculli, il produttore cinematografico Daniele Muscariello, vero factotum della centrale, e Domitilla Strina, la figlia della cantante Anna Bez, nota anche come Lady Petrolio per i suoi interessi nel mondo degli idrocarburi. Coinvolti anche l'ex calciatore Giorgio Bresciani, o Roberto Macori, legato alla destra eversiva romana. L'inchiesta ha portato all'arresto di 18 persone con 57 indagati e al sequestro di tre società attive nel settore cinematografico e altre aziende per circa 131 milioni di euro. La centrale romana del riciclaggio era la via preferita per l'ingresso di capitali dell'Andrangheta e della Camorra in imprese sane e legali. Un sistema amalgamatosi nel tempo degli interessi delle associazioni di tipo mafioso, scrive nell'ordinanza di conferma il GIP, che si muovono nell'area metropolitana capitolina. Roma storicamente rappresenta il punto di contatto tra imprenditoria, politiche e mafie. Secondo il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo, è un'operazione di portata storica. Truffe, rapine e distorsioni per almeno 500 mila euro, vittime gli anziani, soprattutto della capitale. Ci racconta tutto Clara Iatosti. Lungo l'asse Roma-Napoli sono finite oggi in manette dieci persone appartenenti ad un'associazione a delinquere specializzata in truffe, rapine e distorsioni ai danni di anziani. In estate è più facile che i nonni si ritrovino da soli e dunque sono più esposti al pericolo di raggiri. La Polizia di Stato suggerisce massima attenzione, prudenza e diffidenza nel caso in cui si riceva una telefonata da sedicenti avvocati o appartenenti alle forze dell'ordine che chiedano denaro o preziosi per un nipote o un parente dell'anziano in difficoltà economica. Consiglio sicuramente di prendere qualche istante e contattare immediatamente il numero unico di emergenza europeo, l'112, per consentire alle sale operative di mandare immediatamente una volante, un autoradio per verificare cosa sta accadendo. Nel caso in cui dovesse presentarsi alla porta di casa e il complice della persona che ci ha contattati telefonicamente per riscuotere la somma concordata in precedenza, il consiglio ovviamente è quello di non aprire assolutamente la porta e contattarci immediatamente. I truffatori di oggi si fingevano poliziotti, letturisti del gas, medici della Hasley, dieci indagati, tutti di origine campana, operavano prevalentemente a Roma ma anche in alcune province del centro-sud. Biden non ha intenzione di fare alcun passo indietro e rafforza la sua candidatura alla rielezione. Lo ha ribadito in una lettera ai suoi compagni di partito. Beatrice Bossi. La stampa americana non molla, ficca il naso nelle cartelle cliniche del presidente e crea imbarazzo tra i democratici. Joe Biden non è in cura per il morbo di Parkinson è costretta a sottolineare il capo ufficio stampa della Casa Bianca dopo le notizie apparse su tutti i giornali. Secondo il New York Times, un medico neurologo specializzato in disturbi del movimento sarebbe entrato nella residenza del presidente ben otto volte in meno di un anno. Visite di routine. Continua a ripetere la portavoce alla stampa senza sopire però le preoccupazioni. Ad accendere i risultati sulla salute di Biden l'imbarazzante confronto avuto in diretta TV a fine giugno con Donald Trump. Il candidato repubblicano è sembrato più sveglio e oggi gioca con le debolezze del suo avversario. Crescono le pressioni anche all'interno dello stesso Partito Democratico. L'ex speaker della Camera, Nancy Pelosi, avrebbe detto di essere profondamente a disagio per la candidatura dell'82enne. Parole che potrebbero smuovere le convinzioni di Biden che però al momento continua a ribadire a se stesso e al mondo sono la persona più indicata per vincere contro Donald Trump. La Procura di Parigi ha aperto un'indagine nei confronti di Marine Le Pen con il sospetto di finanziamenti illeciti alla sua campagna elettorale per le elezioni presidenziali del 2022. Lo riferiscono fonti giornalistiche. L'apertura dell'inchiesta è stata decisa dopo una segnalazione lo scorso aprile dalla Commissione nazionale dei conti delle campagne elettorali e dei finanziamenti politici tra le ipotesi di reato appropriazione in debita nell'esercizio di funzioni pubbliche truffa e falso. Uno dei temi più delicati nell'agenda del nuovo premio britannico Starmer è il nodo migranti. Dal suo predecessore Tony Blair l'invito ad affrontare subito la questione. Il servizio di Marco Burini. Braccia aperte o pugno duro? Prima delle elezioni il partito laborista aveva fatto capire che sulla questione migratoria non ci sarebbe stata una svolta radicale. Certo, il piano Rwanda, ostinatamente perseguito dai Tories, è morto e sepolto, ha detto il nuovo premier Starmer. La deportazione dei richiedenti asilo era contraria alle convenzioni internazionali e al senso di umanità. Un obbrobrio indifendibile. Ma a Downing Street il chiodo fisso resta lo stesso. Aumentare i controlli, difendere i confini, cacciare i clandestini. Magari con l'aiuto dell'intelligenza artificiale si è affrettato a suggerire Tony Blair, ideatore negli anni 90 del New Labour. Se non abbiamo regole si generano pregiudizi, sostiene l'ex primo ministro, per il quale i progressisti devono marcare stretto i populisti se vogliono restare al potere. La nuova ministra degli interni Cooper chiede più poteri, più guardie. Eppure senza questi immigrati e figli di immigrati, africani, pakistani, italiani, il sistema sanitario nazionale sparirebbe. Negli ospedali, medici e infermieri vengono quasi tutti da fuori. Ma Starmer e i suoi lisciano il pelo ai nazionalisti. Non vogliono neanche toccare la Brexit. Bisogna stabilire un rapporto di solidarietà tra operai, immigrati, rifugiati, sfruttati, dice invece il regista Ken Loach, per il quale, se permettiamo che ci dividano, se ci facciamo mettere gli uni contro gli altri, la natura dei nostri paesi verrà stravolta. Solo stando insieme possiamo modificare veramente le cose. Una Chiesa in missione con l'impegno di tutti è una delle linee guida dell'Instrumentum Laboris, il documento che farà da guida la prossima sessione del Sinodo dei Vescovi. Cristiana Caricato. Riaccendere la speranza nel cuore dell'umanità è il compito della Chiesa in un tempo segnato dalle grida di dolore e dai volti rigati di uomini e donne coinvolti nei tanti conflitti armati che insanguinano il mondo. Non poteva che partire dal bisogno di gioia e di salvezza il documento di lavoro per la prossima sessione del Sinodo sulla Sinodalità, in programma in ottobre. Presentato oggi in Vaticano l'Instrumentum Laboris, il testo frutto del confronto nelle Chiese locali del cammino sinodale degli ultimi mesi, dopo la chiusura della prima sessione nell'autunno scorso. Un testo base a cui hanno contribuito 108 conferenze episcopali e oltre a 9 Chiese orientali e che si è arricchito della riflessione dei parroci del mondo e dei 10 gruppi di studio voluti dal Pontefice. Non si tratta di un documento definitivo. Le 112 proposizioni divise in due sezioni più l'introduzione e la conclusione serviranno alla discussione che promette di concentrarsi su alcuni temi. Prima di tutto il ruolo delle donne nella Chiesa questione emersa con urgenza durante il cammino sinodale con la richiesta di una più ampia partecipazione femminile ai processi di discernimento ecclesiale e di governo. Più spazi e responsabilità le donne nelle diocesi dai seminari alle facoltà teologiche e i ruoli di giudici nei tribunali canonici. Al sinodo però non si porrà la questione dell'ordinazione sacerdotale delle donne. Sul diaconato femminile infatti prosegue la riflessione teologica. Insistenza poi su un'ecclesiologia della corresponsabilità di laici e chierici con la possibilità di nuovi ministeri per i battezzati. Il ministero dell'ascolto e quello dell'accompagnamento. Infine un'ampia riflessione sulla necessità di trasparenza e rendiconto nella Chiesa. Dopo gli scandali finanziari e quelli provocati dagli abusi sessuali su minori e persone vulnerabili c'è bisogno di colmare la perdita di credibilità della comunità ecclesiale. Viene accolta la domanda di strutture di valutazione che tocchino piani pastorali metodi di evangelizzazione e persino modalità con cui la Chiesa rispetta la dignità della persona umana. Andiamo ora ad Aleppo in Siria dove la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti ci racconta la storia di una vocazione e ordinazione sacerdotale che vince la guerra e le bombe protagonisti due fratelli gemelli. Stesi ai piedi dell'altare per diventare sacerdoti uno accanto all'altro come ogni altro giorno della loro vita perché Johnny e George Gianluf sono gemelli. Siamo nella Chiesa Francescana di Aleppo dove i due fratelli hanno ricevuto tutti gli altri sacramenti. Ad ordinare i sacerdoti lo zio Hanna Francescano primo vescovo siriano in Siria. Un testimone importante per i due nipoti la cui vocazione è fiorita con percorsi e temperamenti diversi sotto le bombe. Oggi sono francescani a servizio della custodia di Terra Santa poliglotti e musicisti avevano 15 anni quando Aleppo la loro città natale è stata devastata dalla guerra. Rispondere a questa chiamata vuol dire rispondere all'amore all'amore di Dio che trasforma ogni nostra ferita ogni nostra debolezza in gioia. I giorni della guerra avevo sempre questo forte desiderio di andare a partecipare alla messa e nonostante tutte le paure e preoccupazioni di poter subire qualche colpo di missile sempre mi ha accompagnato questa frase non temo nulla perché tu sei con me. Giorgio avrebbe voluto diventare un regista per raccontare al mondo la sofferenza del suo popolo Giorgio è un medico. Io vedevo molte persone ferite per la strada che avevano bisogno che qualcuno le curasse quindi ho detto se io avessi questa facoltà di poterlo fare allora ecco l'avrei fatto. Ultimi due di cinque fratelli maschi nel giorno della loro ordinazione Giorgio e Johnny hanno voluto ringraziare anche la loro mamma. Dal 2014 vive con il resto della famiglia in Olanda ed è tornata dall'Eppo per l'ordinazione dei gemelli. Secondo l'antica tradizione in uso nelle chiese orientali ha asciugato lei l'olio crismale sulle mani di Giorgio e Johnny con un panno che sarà posto tra le sue al momento della sepoltura per ricordare a Dio l'offerta dei suoi figli. E portare anche una gioia così grande a una comunità che è stata conflitta dalla guerra. Abbiamo bisogno di vivere il Vangelo piano piano portare quella testimonianza e anche essere strumento di pace. Lorena Vezzosi è stata coltellata l'avrebbe uccisa l'ex compagno Stefano del Re presumibilmente già a Sant'Arcangelo di Romagna dove i coniugi separati abitavano. Manca la conferma ufficiale ma tutte le informazioni che filtrano dopo l'autopsia eseguita questa mattina all'ospedale maggiore di Cremona convergono in quella direzione. Stare in guardia ed essere pronti a ogni intervento è l'invito del ministro della protezione civile Nello Musumeci stamane a Stromboli interessata dal 23 giugno da una significativa attività vulcanica. Ci aggiorna David Murgia. È arrivato sorvolando proprio la sciara del fuoco a Stromboli il ministro per la protezione civile Nello Musumeci accompagnato dal capo del Dipartimento Nazionale Fabrizio Curcio ha preseduto questa mattina un vertice convocato al centro operativo avanzato sull'eruzione del vulcano dell'isola delle Olie. Il vulcano Stromboli è ancora sorvegliato speciale soprattutto da quando il delta lavico creato dalla colata ben alimentata è ormai ben visibile. Abbiamo l'obbligo di stare sempre in guardia abbiamo l'obbligo di immaginare sempre lo scenario peggiore e augurarci quello migliore. Certo i divieti derivanti dei rischi per questa situazione vulcanica stanno avendo effetti anche sull'economia dell'isola soprattutto dal punto di vista turistico e in molti si dicono preoccupati. Tutti quelli che prenotano su quest'isola programmano una vacanza su quest'isola stanno venendo su un vulcano e quindi il rischio è all'ordine del giorno. Aspettavamo dei clienti e là sul Milazzo hanno detto no guardate non utile che ci andate perché tanta allerta rossa dice che ci andate a fare rimanete qua e fatevelo a qui la vacanza. A queste problematiche ecco come ha risposto il ministro per la protezione civile. È chiaro che se il fenomeno nei prossimi giorni dovesse attenuarsi alcune misure potrebbero essere revocate però è necessario innanzitutto attivare un protocollo perché l'obiettivo prioritario è quello di salvaguardare la vita delle persone. Il monitoraggio dei vulcanologi è continuo e senza sosta da queste immagini notturne si vede una densa nube di fumo che risale la sciara del fuoco e sovrasta la cima con una intensificazione della colata ben alimentata che raggiunge la linea di costa. Ci spostiamo negli Stati Uniti adesso dove l'uragano Beryl ha devastato il Texas e la Louisiana 8 morti e circa 2 milioni in mezzo in mezzo in mezzo di famiglie senza corrente elettrica il servizio di Antonella Mazzaterwell è passato sul sud-est del Texas e ha lasciato dietro di sé vittime e danni ancora non calcolati completamente Beryl primo uragano di categoria 5 della stagione indebolito al suo atterraggio sulla costa statunitense e declassato a tempesta tropicale di categoria 1 ma le sue piogge con raffiche di vento a 90 miglia all'ora sono state devastanti una persona è morta in Louisiana per la caduta di un albero 7 le persone decedute nell'area di Houston e la città come mostrano le immagini riprese da un drone è attraversata da fiumi d'acqua 2.500 i soccorritori sul posto oltre 2 milioni e mezzo di utenti risultano senza luce e aria condizionata mentre le temperature si sono notevolmente alzate e ci vorranno giorni per ripristinare l'energia elettrica secondo le autorità locali il governatore Dan Petrica e il responsabile dell'emergenza Nimkid che davanti alle telecamere hanno avvertito che ci sono ancora texani in pericolo nel nord-est dello stato per la presenza di diversi tornado e nel nostro paese è invece arrivato come previsto il grande caldo stato di allerta in diverse città con bollino arancione temperature roventi notti tropicali e umidità alle stelle dalla Coldiretti l'allarme e strage di raccolti al sud il servizio di Luciano Piscaglia si espande l'alta pressione africana che sta portando tempo asciutto e temperature in aumento tra Mediterraneo ed Europa orientale oggi in cinque città del centro Italia Roma compresa il bollino è arancione ma domani saliranno a 13 le località in cui il caldo imporrà lo stesso livello di allerta nei prossimi giorni infatti la colonnina di Mercurio segnerà valori superiori alle medie stagionali su tutta la penisola e la situazione sarà difficile soprattutto al centro sud dove nelle zone interne le temperature supereranno localmente i 40 gradi l'Italia appare sempre più divisa in due con temporali pomeridiani che saranno sempre possibili al nord dove l'instabilità aumenterà con l'avvicinarsi del fine settimana e un caldo che sarà sempre più torrido in tutte le altre regioni è drammatica soprattutto la situazione in Sicilia dove la siccità è un'emergenza cronica mentre Col di Retti lancia l'allarme al sud il grande caldo sta facendo strage dei raccolti e le conseguenze potrebbero essere molto pesanti per l'intera agricoltura italiana il cinema e la serialità italiana e internazionale saranno protagonisti della 54esima edizione del Giffoni Film Festival presentata questa mattina in programma dal 19 al 28 luglio gli oltre 5.000 giurati suddivisi in fasce di età e provenienti da 33 paesi del mondo saranno chiamati a valutare oltre 100 film in concorso tra lungometraggi e cortometraggi in arrivo da 30 paesi sui temi complessi come discriminazioni i conflitti le difficoltà di essere genitori e figli la scoperta della sessualità ma anche sull'importanza dello sport e la bellezza di non riconoscersi in un'etichetta ora il tennis a Wimbledon nei quarti di finale Yannick Sinner ha perso al quinto set contro il russo Medved un incontro molto combattuto durato 4 ore nel corso del quale il tenista italiano si è dovuto anche fermare per una decina di minuti per dei giramenti di testa tra poco in campo Jasmine Paolini ben ritrovati con il TG2000 la corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna a un anno di Giorgio Galanti il medico sportivo che certificò l'idoneità di Davide Astori il capitano della Fiorentina e calciatore della Nazionale che morì alla vigilia di Udinese Fiorentina nel marzo del 2018 ed era questa l'ultima notizia adesso spazio alle previsioni del meteo a seguire la messa noi con le informazioni di TV2000 ci ritroviamo alle 20.30 arrivederci